ragazzi tutto può succedere ciao ciao italiani di dove ragazzi patrizio come cazzo fai a riconoscermi ma bravo ti riconosco da apertura grande grazie mi abbraccia ciao patrizio piacere patrizio piacere come fai a conoscermi? cerbero grande grande ora siamo live su twitch ah pure su twitch? si siamo live su twitch dove me le porti queste signorine? portiamo a fare un piccolo girettino così per starremo amici o fidanzati? amici bravissima ma lei è single? di nuovo patrizio oh beatrice oh carina anche te però c'è una ne posso scegliere ecco beatrice quanti anni è beatrice? 20 sembrava un po più piccola perché è bassa però guarda che carina che è bassettina a me piacciono le ragazze bassine non quelle alte a chi vorresti baciare in bocca di cantante di sanremo in bocca in bocca ah è vero alfa alfa? si osangio no ne puoi scegliere uno? alfa vorresti baciare sulle labbra? alfa ok facciamo una foto ti vedo già in posizione ma in realtà stavo scrivendo dei miei amici ai ragazzi del Cerbero nel caso ok manda una foto nel gruppo Discord salutiamo tutti? facciamo una foto per il Cerbero sono impresentabile un attimo che mi aggiusto un po' eh lo so ragazzi purtroppo c'era troppa pioggia me lo riusci un secondo così ti inquadra esatto in quadro in quadro mi facciamo chiederti un video lui lui dai ragazzi c'è lì c'è l'assia c'è l'assia c'è l'assia un video dai dai vai parti con lui Beatrice e Bona stanno scrivendo così all'improvviso non lo so non lo so ma chi è? che è? Porto YX? è un porco la visa ha avuto un orgasmo YX appena l'hai presa in mano YX Bona un attimo mi do un'altra giustata perché dobbiamo battere Sanremo con il 70% di... di Beatrice e Bona sono Bea dai ne diamo un bacino sulla guancia ragazzi sono appena arrivato dai ma mi fa malissimo il braccio questo coso tutto il giorno ma non l'ha dato male a Beatrice e Bona eccola raga è qua vabbè l'abito molto imbarazzata se fosse stata riccione ragazzi sei bravo guarda intendo me la coccolo mi danno me la coccolo Beatrice e di Mona Patrizio già lo sai attenzione benvenuto è bella ragazza mi sento rimbarazza da quanto tempo che non faccio i ragazzi? voi lo sapete siete gli amici? dai siete gli amici? eh da quanto tempo? lo sapete? aspetta no è lui è tipo il mio ex il tuo ex è di Ventimiglia Sanremo? Torino si si chiama Dancol? no non è lui non è lui ragazzi lo so che voi fantasticate perché mi vedete a Sanremo davanti Beatrice il tuo nome qual'è? Sara c'è anche Sara c'è anche Sara perché un bacio innocente addirittura capito come vogliono fare innocente addirittura bacio con Sara diceva attenzione attenzione calmi 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 io non faccio il volto a bandiera a me a primo impatto è piaciuta Beatrice non mi offre ok a parte di scherzi ora a due minuti vi faccio andare dove andate? nei pressi dell'Ariston? vorrei veniremo a vedere qualcuno non so non conosci qualcuno? ehm tipo Fedez? mi piace dai venite è qua al bar vieni dai è qui al bar ragazzi è una scusa per imboscarmela qua dietro ehm sono sempre il solito mi dispiace sono sempre il solito sono sempre il solito sono sempre il solito a vent'anni a vent'anni oh io intanto la saluto e saluto perché sono state mi puoi riprendere a mente che sono tu grazie aspetta 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 oh ragazzi forse ci vediamo dopo sono sempre qua vediamo fino alle dieci e mezza sono in Irda ci becchiamo ci becchiamo dopo e ciao a tutti ciao ciao ragazzi buona fortuna patricchione non la far rimorchiare no va bene ciao 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 ciao